Musica Ciao, mi chiamo Riccardo e ho 7 anni e faccio la classe seconda. Quando sono a scuola mi sento felice, allegro e mi diverto tanto a fare i conti. Ciao, mi presento, sono Don Evo Berlice e Jessica Nelma della sozione Primavera. Da sempre amo lavorare con i bambini. Per me loro sono una vera e propria fonte di energia, di scoperta e di insegnamento. Ogni giorno sono in grado di regalarmi nuove emozioni e di studermi. Con i bambini ci vuole attenzione, pazienza, cura, affetto e soprattutto tanto tanto amore. Per me la scuola è tutto, è come in casa mia, mi sento libera di fare quello che voglio e per imparare tutto. La scuola è del mio, un posto bello. Dove io imparo tante cose. Mi piace tutto in questa scuola. Il nostro istituto nasce nell'immediato dopo guerra per volontà della Beata Madre Caterina Troiani. È una scuola cattolica fondata sui principi ispirazionali del Vangelo ed aperta alle sfide del mondo contemporaneo, con un'offerta formativa rispondente ai sempre crescenti e mutevoli bisogni formativi dei nostri alunni. L'istituto ospita la scuola dell'infanzia, sezione primavera e la scuola primaria. I bambini sono al centro della nostra missione educativa e il nostro impegno è totale affinché siano garantite per tutti le stesse opportunità di crescita e sviluppo non soltanto cognitivo, ma anche affettivo, morale e religioso. Quando sono a scuola mi sento felice. I bambini sono al centro della beata Madre Caterina per me la scuola è tutto perché qua io imparo, faccio tutte le cose, sento me le maestre. a Grazie a tutti.